Bella raga, non do di proprio gusto perché sono molto arrabbiato, non come una per una cosa, cioè, guardate, un mio amico su whatsapp, guardate, andiamo su Pietro, dov'è Pietro, 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 dove sto Pietro, vabbè lo scrivo qua, ok, guardate, guardate il suo canale, mi ha fatto molto arrabbiare, springhi, 31 iscritti, qua, 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 vedete, e sono molto arrabbiato, se no anche noi raggiungiamo i 31 iscritti, vi giuro che apro un nuovo canale, questo qua lo lascio, ma apro un nuovo canale e porto tutti i video che volete voi, tutti, tutti, e venite in live su Twitch, Ciao raga, e lo so direte, però venite dopo in live, tra tipo 5 minuti faccio un altro video, ciao raga